A Bologna abbiamo avuto ogni anno un piccolo incremento, abbiamo 17 agenzie operative su Bologna e provincia, siamo presenti anche nelle altre, abbiamo aperto adesso a Modena il primo ufficio abbinato franchising e condominio, quindi coinvolgendo un amministratore di condominio e siamo presenti anche comunque sia in Romagna che in Emilia, su Parma e Piacenza. Assolutamente ci sono segnali di ripresa, su Bologna città già dall'anno scorso anno c'è stato un aumento delle compavrendite, in provincia si fa un pochino più fatica, però sul comune di Bologna i segnali sono assolutamente super positivi. Grazie a tutti!